alla fine è successo no nel senso stiamo cercando conferme a questa cacqua mi è arrivata una twittata sono schizzato in piedi no che cosa no calcola allora mi è arrivata una notizia che mi ha girato il sangue in pratica pare pare sto cercando conferme che anche alex alex belli sia desnudo alex belli pare ripeto pare perché sto cercando conferme che anche lui sia desnudo esatto quindi sto cercando conferme se tu intanto mi vuoi dire che ne pensi allora io vorrei sapere prima di commentare la notizia si vorrei sapere chi cazzo è alex belli e che cazzo vuol dire desnudo allora desnudo allora che cazzo è alex belli in uso iniziamo iniziamo a dire questo va bene seconda cosa invece importante desnudo so che cos'è invece in pratica è un'isola dove bisogna stare tutti tutti i nudi che l'hanno chiamata playa desnuda quindi chiunque viene scaraventato lì perché magari che ti posso dire invece di essere eliminato lo mandano lì a fa la muffa lui deve andare in giro nudo comunque vestito con poche foglie con poche cose e allora pare mi è arrivato mostro tweet e che lui sia ricapitato lì e quindi vuole sapere tu che ne pensi tutto allora allora io che innanzitutto esprimo tutta la mia costernazione per questa cosa è impensabile che il povero alex belli belli esatto appunto sia costretto a fare queste cose lontano a casa perché insomma anche quello anche quello in ospitale se saranno vaccinati per l'influenza io spero di sì perché poi li emorsi dei ragni e quindi non si può esporre la gente a sti pericoli della natura a tutti i chilometri della casa ma poi tra l'altro saranno pagati io sono sotto pagati per le esigenze basse economiche di questi grandi gruppi industriali che spessano il poveretto lo costringono a fare queste cose per dare il tuo speech insomma tra l'altro è questo secondo me non ricevono manco un compenso adeguato è quello io so che so no no che poi so che si stanno formando anche dei sindacati proprio per difendere queste categorie queste categorie che vengono vessate dal padrone esatto ma non so quanto percepiscono sinceramente alcuni credo anche niente infatti è questo è questo è giusto che ci siano dei sindacati per proteggere i ricchi dai ricchi dai ricchi esatto va bene allora noi ti ringraziamo per il tuo pensiero comunque sempre lucido io purtroppo non ho trovato conferme però sai queste sono anticipazioni e quindi l'abbiamo data per primi l'abbiamo data per primi sì 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 prima di cicciolina l'abbiamo data è il diciamo l'alter ego di rocco di rocco nella cosa perché ora si è aperta un'agenzia di informazioni no la data l'abbiamo data darla prima di l'abbiamo data capito era quello il nesso data attaccato che cafone che cafone ma attaccato in faccia ciartrone attaccato in faccia ciò che si è aperta un'agenzia di informazioni